Tra le varie disgrazie che possono capitare ad un caricabatterie per cellulare c'è anche quella della perdita di uno spinotto. Ma mettendo della colla a caldo direttamente sulla parte dello spinotto che si è distaccata, stando attenti a non far andare la colla sui contatti elettrici, il problema è facilmente risolto. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.